Buongiorno, ben trovati all'appuntamento quotidiano con Buongiorno con Noi, la rassegna stampa del TG Noi. Vi presento subito l'ospite di questa mattina, è nei nostri studi Marco Remaschi. Buongiorno a tutti voi. Marco Remaschi, Presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana. Ufficialmente ancora in carica o le cariche sono decadute? No, ufficialmente ancora in carica fino alla data delle elezioni chiaramente. Ebbene, con Remaschi che ha lavorato alla riforma della sanità toscana molto spesso dietro le quinte con un lavoro senza molti clamori, parleremo appunto di quello che sarà in futuro la sanità della nostra regione e di quali sono state le intenzioni della regione nell'approntare questa riforma. Poi parleremo anche di altri argomenti, se ce ne sarà la possibilità, come per esempio le elezioni regionali che sono ormai le porte, come le elezioni del comune dove lei è stato sindaco, cioè il comune di Coreglia. Prima diamo però subito uno sguardo ad alcuni titoli dei quotidiani che sono stamattina in edicola. Partendo dagli inserti lucchesi della Nazione e delle Tirreno, ovviamente l'argomento non può che essere l'omicidio di San Filippo, l'omicidio di due giorni fa. Il titolo sulla grande fotografia d'apertura sul fascicolo lucchese della Nazione è L'ossessione con le foto dell'omicida Massimo Donatini e della vittima, il caporeparto elettricisti della Lucart, Francesco Sodini. Sequestrati computer e telefonini di vittima e omicida, indagini per scoprire il vero movente del tragico agguato in cui ha perso la vita il caporeparto. L'operaio killer aveva l'assillo delle telecamere in azienda. Nelle pagine interne stamani l'interrogatorio in carcere, l'autopsia per chiarire la dinamica, il giudice per le indagini preliminari Nerucci ascolta Massimo Donatini, l'omicidare ho confesso. E poi, ancora sequestrati telefonini, computer e cd, si cercano anche dei filmati chiave. Il killer temeva di essere stato ripreso ed incastrato sul lavoro. Andiamo a vedere il Tirreno, sempre sullo stesso argomento. Il titolo era convinto di essere spiato dal capo. Dal Tirreno emerge anche un altro elemento. L'ossessione del licenziamento nata dalle prese in giro dei colleghi all'origine dell'omicidio commesso da Donatini. Quindi si introduce anche l'elemento di alcune prese in giro scherzose che ci sarebbero state da parte dei colleghi proprio sulla questione delle telecamere, scherzo che evidentemente è stato interpretato in tutt'altro modo da Massimo Donatini che, dobbiamo desumere da queste notizie, avesse una mente abbastanza fragile che non ha retto a questo tipo di frasi. Andiamo a vedere ancora i titoli delle pagine interne. L'azienda si fermerà per l'addio al caporeparto. I colleghi devolveranno un'ora di lavoro in segno di affetto e partecipazione. Oggi Donatini verrà sostituito nel reparto caldaie della Lucat. Nel quartiere prove di normalità. Si parla di San Filippo ma il giorno dopo l'omicidio è ancora troppo grande il dolore per la tragedia. Infine i compagni del basket aspettano i figli di Sodini. Siamo pronti ad accoglierli quando vorranno tornare. La grande famiglia della pallacanestro lucchese si è stretta attorno a Damiano e Riccardo, ovvero i figli di Francesco Sodini, la vittima dell'omicidio. Questi i primi titoli che abbiamo letto sulle notizie della giornata. Adesso iniziamo a parlare con il nostro ospite Marco Remaschi. Abbiamo introdotto il tema della riforma sanitaria. Sicuramente l'aspetto che colpisce di più è la costituzione di queste tre nuove ASL che andranno ad inglobare le 12 che esistevano. Come si è arrivati a questo tipo di decisione che è quella un pochino più che intanto è d'impatto rispetto all'opinione pubblica? Si è arrivati secondo me grazie a un percorso necessario, obbligatorio di riorganizzazione anche in sanità. Io ero uno dei sostenitori che questo tipo di operazione probabilmente andava messa in campo anche prima di questo percorso. Lo dico perché oggettivamente noi oggi sappiamo che all'interno di ogni singola area vasta ben il 95% dei bisogni di ricovero vengono risolti all'interno dell'area vasta. Il che vuol dire che questa è una entità territoriale sulla quale è necessario omogenizzare risposte e servizi per migliorare l'aspetto qualitativo delle risposte ai nostri cittadini e anche indubbiamente per rispondere a percorsi virtuosi a percorsi indubbiamente nei quali si deve rispondere anche a ragioni di ordine economico. Ma il primo obiettivo è quello di mantenere una sanità pubblica indubbiamente di grande qualità. Questo è il percorso, il processo e la sfida che stiamo vivendo e che la prossima giunta, la prossima legislatura del Consiglio regionale dovrà affrontare nel merito. Ecco, probabilmente per far capire bene la questione ai nostri telespettatori anche se l'abbiamo detto più volte c'è da fare una premessa. Qui si lavora con molte meno risorse rispetto all'anno scorso perché i contributi da parte dello Stato sono stati veramente quasi azzerati. C'è anche l'aspetto economico, però non è il solo, cioè non è solo l'aspetto che dal 2010 diciamo ad oggi, quindi in questa legislatura noi abbiamo avuto come regione toscana qualche cosa come 8-900 milioni di euro di trasferimenti in meno, perché sarebbe riduttivo se la riforma partisse solo da un'esigenza economica. C'è anche un'esigenza organizzativa di ragionare in termini di area vasta, di stabilire un percorso a rete anche fra le aziende ospedaliere universitarie e gli ospedali del territorio per dare riferimenti precisi ai nostri cittadini e indubbiamente per rafforzare anche la sanità territoriale, che è uno degli elementi di forza. Se funziona il territorio, se il territorio è ben organizzato e dà risposte ai cittadini funziona meglio anche la rete ospedaliera. Per fare questo c'è bisogno di uscire dal perimetro delle singole asle come quelle attuali e di ragionare in un perimetro più ampio che per quello che ci riguarda interesserà le province di Lucca, di Massa, di Pisa e di Livorno. All'interno di quest'area credo che noi potremmo in un confronto serrato con gli operatori, con le istituzioni trovare quelle risposte che ad oggi mancano indubbiamente per dare miglior qualità ai servizi già buonissimi che noi abbiamo come Sanità Toscana. Non lo dice Marco Remaschi, non lo dice il Presidente Rossi, lo dicono dati oggettivi, osservatori nazionali ed internazionali che la Sanità Toscana nello scenario italiano è fra le prime due o tre sanità. Quindi vuol dire che il livello di risposta dei servizi che abbiamo è un livello di alta qualità. Abbiamo dei problemi? Sì, sicuramente, in effetti ci sono. Non è che tutto è bello e tutto funziona bene, perché vorrebbe dire nascondersi dietro un dito e non dire la verità. Ci sono degli aspetti, per esempio mi vengono in mente le liste di attesa, per esempio mi vengono in mente i pronti soccorsi e i posti letto, ci sono temi che nella riorganizzazione dovranno essere affrontati per dare risposte anche in questo senso e un processo virtuoso deve indubbiamente raccogliere la sfida per migliorare anche gli aspetti che oggi funzionano meno bene. Perché il primo pensiero che si affaccia nella mente del cittadino medio, chiamiamolo così, è accorpamento, significa poi taglio dei servizi, diminuzione dei servizi, meno attenzione sul territorio. Voi invece state cercando, avete cercato con questa riforma di fare a quello che ci sta dicendo esattamente il contrario, cercare di razionalizzare con una forte attenzione invece alle esigenze dei cittadini. Intanto due aspetti, questa è una riforma ponte, una riforma di principi che traccia le linee di una riorganizzazione che dovrà poi essere messa in campo, che dovrà essere discussa, che dovrà essere partecipata, che dovrà essere condivisa fra i rappresentanti istituzionali e gli operatori. Perché una rivoluzione come è questa non può essere calata intanto dall'alto. Quando io parlo di una riorganizzazione vera, seria, una vera sfida, la intendo in questo senso. Intanto, sanità non è solo ospedale ma è anche territorio, perché tantissime prestazioni non solo di prevenzione ma anche post-acuzie si svolgono sul territorio. Noi li dobbiamo soltanto rafforzare, non dobbiamo svuotare il territorio. Quanto più il territorio funziona meglio, non solo sotto l'aspetto di esami diagnostici, di risposte e anche di prestazioni che possono essere fatte sul territorio, tantomeno indubbiamente c'è inappropriatezza, cioè accessi impropri in ospedale, al pronto soccorso e così via. Però al momento sulla medicina territoriale siamo un po' in ritardo nell'organizzazione. Ma guarda, non siamo in ritardo. Diciamo che c'è a macchia di leopardo territori che sono più organizzati, più avanti rispetto ad altri. Anche questo credo che la Toscana non se lo possa permettere. Credo che ci sia bisogno di un restyling generale e di una scelta territoriale ancora più forte, ancora più marcata, perché ci sia la percezione vera da parte dei cittadini di una omogeneità di servizi che vengono offerti sul territorio. Diciamo che alcune aree della nostra regione, voglio dire, indubbiamente anche sull'aspetto dell'organizzazione territoriale hanno bisogno di un rafforzamento, di una scossa. Questo tipo di riforma, di riorganizzazione deve andare in questo senso. Bisogna uscire un attimo dagli aspetti dei campanili, bisogna guardare un pochino più avanti, se noi vogliamo garantire ad ogni cittadino toscano, a noi stessi, l'equità di accesso. Io ho già diverso tempo che dico che non possiamo fare tutto da tutte le parti, che di ospedali che ci sono non ne chiuderemo nessuno, però ogni ospedale dovrà avere la propria vocazione. Ogni ospedale, il cittadino dovrà sapere quali tipi di risposte trova all'interno del presidio ospedaliero, con alta specialità e con alta professionalità e per alcune tipologie di interventi, indubbiamente è necessario andare a ricercare le risposte all'interno dell'area vasta. Sempre chiaramente mettendo al centro la qualità della prestazione e del servizio che viene reso al cittadino, perché se usciamo da questo parametro, indubbiamente credo che la partita l'abbiamo persa. Le chiedo un giudizio sulla nostra ASL, la ASL numero due di Lucca, come si è mossa secondo lei nell'ambito di tutti i cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi tempi e prima di tutto la realizzazione del nuovo ospedale San Luca? A me pare, io pare che rispetto a un anno fa, quando l'ospedale San Luca ha iniziato il suo percorso, lo dico da cittadino, lo dico da attento osservatore, lo dico anche da personaggio politico, che ci sia molta più tranquillità e molta più vivibilità all'interno del presidio ospedaliero, dove gli operatori stessi erano più preoccupati della nuova organizzazione, dell'intensità di cura e oggi invece, una volta messi alla prova dei fatti, si rendono conto che questo tipo di sanità funziona. Ci sono alcuni piccoli problemi che l'azienda sta cercando di risolvere, mi viene in mente l'aspetto legato ai parcheggi di cui se ne parla in continuazione, altre piccole situazioni che devono essere messe, diciamo, indubbiamente all'attenzione, però a me pare che l'azienda si stia muovendo con grande intelligenza. Anche tutto l'aspetto che noi ritenevamo preoccupante per la viabilità di accesso al San Luca, mi pare che oggi, a distanza di un anno, problemi di questa natura non ce ne siano. Ecco, c'è un modo diverso di vedere la sanità, l'azienda è attenta e ci sta lavorando con grande attenzione. C'è anche una proposta che il direttore generale Polimeni, in questo caso, come tutti gli altri direttori generali, hanno fatto alla conferenza dei sindaci per un aspetto di riorganizzazione legata anche, indubbiamente, alle minori risorse finanziarie che sono state assegnate dalla Regione Toscana a singole aziende per quello che riguarda il 2015 e che deriva, indubbiamente, dai tagli nazionali. Quei famosi 4 miliardi in meno che la legge di stabilità ha dato in meno alle Regioni nel dicembre del 2014. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità. Torniamo tra pochissimo di nuovo a leggere le notizie di oggi e a parlare con Marco Remaschi di Sanità in Toscana e soprattutto nei nostri territori a Luca. Siamo di nuovo in diretta con la nostra rassegna stampa e con il Presidente della Commissione Sanità della Regione Toscana, Marco Remaschi. Stavamo sfogliando i giornali di oggi e dopo le notizie relative all'omicidio di San Filippo andiamo a vedere qualche altra notizia che compare sempre sui fascicoli lucchesi della Nazione del Tirreno. Partiamo dalla Nazione, bimbo morto, 4 medici davanti al GUP, formalizzata dal PM la richiesta di processo per omicidio colposo per la morte di Alessandro Favilla, il bimbo di 10 anni che morì soffocato nell'ottobre del 2012. In alto la polizia trova Ashish all'istituto agrario di Mutigliano e la seconda volta ne abbiamo dato notizie anche noi nel corso del telegiornale di ieri sera. Una notizia riguardante la provincia di Lucca. Ultimi due mesi Tambellini sarà Presidente dopo l'attesa rivoluzione in arrivo gli atti per la salvaguardia del personale. Che cosa sta succedendo? Stefano Bacciari, il Presidente della provincia con ogni probabilità sarà candidato alle elezioni regionali nelle liste del Partito Democratico, tra l'altro se non sbaglio Remaschi in una decisione ci sarà proprio in questi giorni, venerdì. Domani sera. Domani sera sarà presa dal livello regionale del partito. Domani sera in direzione territoriale verrà valutata la proposta che la provincia di Lucca farà la direzione regionale con i nomi. E quindi poi sapremo i nomi, se non sbaglio, degli otto candidati della lista del Partito Democratico. Comunque appunto Stefano Bacciari sarà candidato e il nuovo Presidente della nuova provincia con competenze molto più ridotte rispetto ad ora sarà scelto tra i sindaci della provincia e probabilmente sarà il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini. Però questa è un'anticipazione che ci viene fatta dalla nazione. Sempre per quanto riguarda le notizie di cronaca, stavolta però sul Tirreno andiamo a vedere ladri nella galleria d'arte trafugata una statua. Il furto ha colpito una delle opere di Donia Moui, scultrice belga tunisina che insieme al marito vive da anni in una casa da sogno sopra Pozzuole. Per quanto riguarda il centro storico di Lucca, gli operatori Via Elisa, solo pedonale, la strada a tutti i presupposti per diventare una promenade. Non piace ai commercianti l'idea di inserirla nella ZTL. Comunque qualcosa evidentemente destinato a cambiare in questo settore del centro storico di Lucca. Lucca all'Expo nel segno di Puccini, il sogno c'è ancora e nessuna autorizzazione per l'eli soccorso e qui si parla della questione del nuovo ospedale di Lucca. Il comitato Lucca-Est è contro eventuali permessi temporanei, chiesto anche lo spostamento dell'ITI e qui si parla nella scuola che è nei pressi dell'ospedale. Per esempio la questione dell'eli soccorso all'ospedale San Luca ha colpito abbastanza l'opinione pubblica perché si tratterebbe di un lavoro che è stato fatto non seguendo completamente i giusti criteri che dovevano essere seguiti per la sua progettazione. Che idea si è fatta lei? L'idea è abbastanza semplice, credo che sia l'idea che si sono fatti tutti i cittadini di Lucca e della nostra provincia, che l'individuazione di quella localizzazione per il nuovo ospedale sia una localizzazione infelice. Questo ragionamento ci porterebbe indietro nel tempo, ci porterebbe al 2004 quando chi indubbiamente aveva responsabilità di governo a livello locale ha individuato quell'area per il nuovo ospedale. Evidentemente si fossero fatte scelte diverse e questo tipo di problema non ci sarebbe stato, in dubbio. Ormai però questa scelta è stata fatta. Prima ha accennato alla presentazione da parte del direttore generale dell'Asile numero 2, Joseph Polimeni, di un piano per la gestione della sanità in Lucchesia nei prossimi anni alla luce dei tagli che ci sono stati anche a livello economico. Ci può dire che cosa succederà in linea generale? C'è una riflessione che è in corso, io ho avuto modo, voglio dire, di parlare con l'assessore regionale, di parlare anche con il direttore generale. Per quello che riguarda la nostra azienda ASL è abbastanza semplice. Intanto un seguimento attento della messa a punto e del completo funzionamento dell'ospedale San Luca e a me pare oggettivamente che l'ospedale funzioni e funzioni bene. C'è necessità di prestare una maggiore attenzione in ambito di pronto soccorso perché numerosi sono gli accessi e sono in crescita su questo tipo di aspetto. Ma secondo lei c'è bisogno di più personale a pronto soccorso di Lucche? Più personale, ore, non sono nelle condizioni di entrare in un aspetto prettamente gestionale, di fare valutazioni di merito che non mi competono, competono indubbiamente a chi ha determinate responsabilità. Sono sicuro che a condizioni normali di accessi l'organizzazione così come funziona bisogna essere pronti a far fronte a esigenze particolari come per esempio sono avvenute intorno a fine anno, gennaio, con questa epidemia influenzale oltre le righe che indubbiamente ha creato qualche tipo di problema. Voglio dire, cosa sta facendo? Intanto sta facendo l'azienda una riorganizzazione di campo di Marte, sta migliorando alcuni aspetti della cittadella della salute, alcune inaugurazioni sono state fatte, è in corso per esempio il secondo tranche di gara per quello che riguarda la definizione di ulteriori 14-15 posti letto per cure intermedie, altrettanti sono già stati aperti, c'è la necessità di fare scelte precise sul campo di Marte e in quell'aspetto lì, mi sembra che c'è la disponibilità oggi più marcata rispetto a ieri anche dell'amministrazione comunale di addivenire ad una soluzione definitiva. la regione toscana ha espresso la volontà di rivedere in termini molto migliorativi per il comune di Lucca e per la nostra ASL quell'accordo di valorizzazione del 2004 che prevedeva 23 milioni di euro da ricavare dalla vendita di quegli immobili, diciamo che ad oggi un accordo ancora non completamente formalizzato ridurrebbe quella valorizzazione dai precedenti 23 milioni a nemmeno 10 milioni di euro e credo che sarebbe un grande successo politico oltre che indubbiamente la garanzia di uno sviluppo vero di quell'area lì per poterci fare una cittadella della salute e affinché il rimanente diciamo di quell'area lì sia un'area sulla quale non si faranno speculazioni edilizie ma verranno fatte delle scelte indubbiamente consone a quello che l'amministrazione comunale di Lucca vorrà. Non so se sarà il polo della sicurezza, non so se sarà una parte di polo dedicato alla scuola o altri tipi di innovazione, in ogni buon conto è in corso su questo aspetto, dovremmo decidere rapidamente, dovranno decidere rapidamente diciamo quale sarà il riordino di questo aspetto. In dubbio comunque se la cifra è quella che ci ha detto in questo momento ci sarà un pochino più di agilità e un pochino più di tranquillità nel poter decidere. La cifra è questa perché a livello regionale il sottoscritto con altri soggetti, con il presidente della giunta regionale Rossi ha trovato un'intesa per andare in questo senso, effettivamente i precedenti 23 milioni di euro non erano sicuramente raggiungibili visti anche il contesto di mercato, dobbiamo chiudere questa partita e chiaramente per farlo dobbiamo trovare un accordo comune. A me pare che su questa cosa ci sia una intenzione vera, reale, questi sono dati di fatto oggettivi che verranno formalizzati nel corso delle prossime settimane. Peraltro, oltre chiaramente alla messa a punto del nostro ospedale, perché poi si parla come dicevo dopo di aria vasta, noi abbiamo diverse eccellenze a San Luca, lo vogliamo dire che ci sono alcune cose che non funzionano ma vogliamo anche dire le cose che funzionano e che funzionano bene e che sono anche delle eccellenze in ambito di aria vasta. Molto spesso fanno più notizie le cose che non funzionano. Sì, questo è vero perché quando ci sono disagi la gente ha questo tipo di percezione, però credo che ci sono molte cose che oggi funzionano e sulle quali indubbiamente dobbiamo rafforzare all'interno dell'aria vasta anche questo tipo di aspetto. C'è da parte del direttore generale Polimeni una grande attenzione nello stabilire un'interconnessione fra territorio e ospedale di riferimento provinciale. Poi c'è la valle, con i due presidi ospedalieri, con le problematicità di una vera integrazione. Abbiamo perso, perlomeno fino ad oggi, l'opportunità di fare un presidio ospedaliero unico, c'è la necessità di far funzionare in maniera più sinergica i due ospedali, con una vera integrazione. So che è stata fatta proprio nei giorni scorsi, anche in queste settimane c'è stata un po' di discussione sulla stampa, una proposta, mi viene in mente l'aspetto dei servizi oncologici e dell'aspetto legato alla dialisi, quindi una diaspora che va avanti da un po' di tempo fra Barga e Castelnuovo di Garfagnana, dobbiamo ragionare in termini di comprensorio più vasto, uscire dagli aspetti di campanile, come dicevo, se vogliamo mantenere nel tempo servizi e migliorare la qualità e la funzionalità dei servizi, in un termine anche di economicità. Questo, indubbiamente, non può essere anche questo calato dall'alto, dovrà essere frutto di un confronto all'interno della conferenza dei sindaci. Il direttore chiaramente sta valutando, hanno deliberato l'apertura della Casa della Salute a Bagni di Lucca, c'è un utilizzo più funzionale di quella struttura alla scuola di Gallicano, c'è un rafforzamento del presidio, voglio dire, di Fornaci di Barga, noi abbiamo in campo diverse cose sulle quali indubbiamente dobbiamo lavorare. C'è anche un aspetto per eliminare gli sprechi, perché chiaramente gli sprechi ci sono, ci sono talvolta tutte le parti, sono stati indubbiamente ridotti nel corso di questi ultimi anni, sì, c'è bisogno comunque di un aspetto di maggiore attenzione. Quando si parla di inappropriatezza, non è soltanto l'inappropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche, di tanti farmaci che talvolta non dico sono inutili, ma indubbiamente non rispondono a determinati requisiti. Anche diagnostiche, anche diagnostiche. Il numero degli aumenti delle prescrizioni, non nell'ultimo anno e mezzo, ma fino perlomeno a tutto il 2013, era aumentato esponenzialmente, con percentuali a due cifre. Mi riferisco per esempio alle risonanze magnetiche. Parlo di Lucca o di tutta la regione? Parlo di tutta la regione, ma Lucca non è che fa indubbiamente eccezione su questo. Quindi anche a Lucca questo tipo di aspetto esiste. Bisogna indubbiamente ricondurre il problema nell'ambito di una organizzazione e di una funzionalità indubbiamente diversa. Allora organizzare il territorio vuol dire permettere a tutti i cittadini della valle o non solo dei territori periferici di trovare risposte sul territorio per tutto quello che riguarda la parte non attribuibile all'ospedale. Quindi tutto l'aspetto legato alla prevenzione, tutto l'aspetto legato alla cura, tutto l'aspetto della vera integrazione socio-sanitaria, sul quale anche i sindaci devono avere un ruolo importante e questo lo abbiamo scritto indubbiamente in legge e su questo si lavorerà per rafforzare e migliorare questo tipo di ragionamento. Non c'è dubbio che la vera scommessa della sanità del futuro è quella della medicina territoriale. Questo ormai appare chiaro e la capacità degli enti locali, della regione, dei comuni dovrà essere quella di organizzarsi rapidamente e al meglio soprattutto su questo aspetto, ma ne parleremo anche più avanti. Ora facciamo una nuova interruzione pubblicitaria, poi torniamo a leggere le notizie di oggi e a parlare con Marco Remaschi. Prima di riprendere la nostra conversazione con Marco Remaschi diamo un'occhiata alle notizie dalla Versilia col fascicolo di Viareggio, del Tirreno. Il titolo d'apertura da 6 a 13 anni per completare un lavoro. Nelle carte del Comune la tempistica degli ultimi interventi realizzati dal finanziamento all'inaugurazione un turbinio di progetti, incarichi e varianti. Quindi un articolo che vuole dimostrare come sia lentissimo a Viareggio l'iter per realizzare qualsiasi tipo di opera pubblica. L'esempio è quello del nuovo Ponte Girante, nella foto in apertura di pagina, nuovo Ponte Girante finanziato nel 2007, realizzato tra il 2014 e il 2015. Questo però diciamo anche che sotto tanti aspetti non è un male solo Viareggio, ma è un male italiano. Magari anche nel settore sanità, magari lo chiediamo anche a Marco Remaschi. Tante volte prima di realizzare le opere pubbliche passano così tanti anni che alla fine non sono neanche più adeguate ai tempi nei quali vengono effettivamente realizzati. Beh, su questo indubbiamente la Regione Toscana ha sempre fatto della concertazione, diciamo una sua bandiera. La concertazione e il confronto porta spesso, voglio dire, a avere la necessità di avere tempi più lunghi. Beh, bisogna avere la capacità di accorciare questi percorsi, chiaramente non diminuendo la partecipazione, ma dandoci tempistiche diciamo più chiare per la definizione dei percorsi. Questo effettivamente su tante cose, basta parlare di infrastrutture in generale, vediamo che se ne parla da troppo tempo e poi non è solo il problema economico della ricerca, diciamo così, delle risorse finanziarie per realizzare le cose, spesso il dibattito sui territori frena lo sviluppo. Basta pensare a un tema che ci riguarda da vicino, l'asse nord-sud, anche se a giorni, nel mese di aprile, il Cipe dovrebbe deliberare lo stanziamente quindi l'inizio del primo lotto, che dovrebbe essere un primo lotto funzionale, chiaramente poi la politica e le istituzioni dovranno attivarsi per completare l'intero intervento. Allora, leggiamo qualche altro titolo riguardante Viareggio sul Tirreno, si parla soprattutto di Nautica nelle pagine centrali, Rossi Navi vara una barca vintage, sabato va in acqua il Taransai, un 40 metri che è la copia di un'imbarcazione del 1930, l'armatore del nord Europa, mentre Perini consegna Perseus e punta sull'innovazione. La svalutazione del rublo ha fatto saltare il contratto con un armatore russo, ma l'azienda assicura ci siamo e ci saremo e lascia Ucina come gli altri big. Insomma, comunque notizie che parlano di attività, perlomeno nel settore della nautica, che è uno di quelli che si è trovato forse maggiormente in difficoltà in questi ultimi anni. Una notizia riguardante la corsa verso la regione. Marcucci, Neri e Silicani in corsa per la regione. La direzione versiliese del PD vota praticamente all'unanimità la lista che dovrà essere integrata con i nomi scelti dal partito per la lucchesia. Le foto appunto sono quelle di Maria Cristina Marcucci, ex consigliera comunale. Ettore Neri e Michele Silicani. Neri è sindaco attuale di Seravezza. Silicani è stato sindaco del comune di Stazzema. Si avvicinano anche le elezioni regionali, un altro argomento del quale però parleremo di nuovo, magari più avanti con Remaschi. Adesso voglio tornare sulla questione della sanità in Valle del Serchio perché appunto ne abbiamo già accennato prima la questione dell'ospedale unico della Valle del Serchio. Secondo lei dove si va a parare? Quale sarebbe il suo pensiero sulle cose migliori da fare? Perché c'è questo ospedale di cui si parla ormai da due, tre anni che però ancora non vede, del quale però non si comincia a vedere la realizzazione. Questi due presidi che insistono sul territorio e sulle quali ci sono molte discussioni, il timore è che si stia andando a perdere un treno importante e che si possa rischiare qualcosa sui servizi sanitari se non si fa un salto deciso in avanti. Lei come la pensa? Ma intanto ci sono due aspetti. Io come la penso è abbastanza semplice, l'ho detto, sostenuto e lo dirò anche in questo intervento. Intanto il direttore generale ha sbloccato alcuni investimenti e alcuni interventi sia per quello che riguarda l'ospedale di Barga sia per quello che riguarda l'ospedale di Castelnuovo perché ad oggi noi ci dobbiamo misurare con una realtà esistente, quindi con due presidi ospedalieri che devono essere integrati e rafforzati per mantenere un livello qualitativo delle prestazioni che ad oggi secondo me esiste. Questo è un aspetto fondamentale. Non possiamo interrompere gli investimenti che sono infrastrutturali, che sono in tecnologie, che sono indubbiamente tutti quegli investimenti necessari per garantire ai cittadini della valle risultati all'altezza. Quindi lei dice intanto che nessuno smantellamento della sanità in valle del Senato. Su questo tipo di aspetto mi sembra che le determinazioni che ha preso la direzione generale, anche recentissime di questi ultimi giorni, vadano in questo senso, perché altrimenti non diciamo la verità ai nostri cittadini. Di contro c'era un altro tipo di proposta, un'altra visione della sanità in valle, alla quale io ho detto qualche anno fa che ero, secondo me, era la soluzione giusta quella di andare verso un unico presidio ospedaliero in valle, un presidio ospedaliero che potesse garantire perlomeno per i prossimi 25-30 anni diciamo così una evoluzione, uno sviluppo positivo dell'attuale risposta. Sappiamo come è andata sull'individuazione, la localizzazione del presidio ospedaliero. Io mi auguro da cittadino della valle perché completerò il mio mandato regionale appunto fra pochi mesi, che effettivamente sia i sindaci sia chiaramente la giunta regionale toscana riprendono questo ragionamento perché credo che in prospettiva sarebbe un passo in avanti notevole indubbiamente per la comunità valleciana. Quindi appunto nessuno smantellamento della sanità in valle del Serchio. Diamo uno sguardo anche, visto che abbiamo letto le notizie di viareggio, anche alla sanità per quanto riguarda la Versilia. Quali sono i problemi, le sfide da affrontare per la ASL12 su quel territorio anche in vista poi del futuro accorpamento con gli altri territori? Diciamo che la Versilia è un territorio un pochino più compatto, più coeso, meno comuni, presenta alcune dinamiche che sono facilmente riscontrabili. Indubbiamente nel periodo invernale risponde ai bisogni di salute dei cittadini di quella comunità. È chiaro che a far data dal mese di maggio per tutto il periodo estivo aumentano notevolmente i numeri e quindi aumentano anche le risposte a determinati tipi di bisogni. È un'azienda che funziona e funziona bene. È chiaro che quando si perde qualche cosa, si perde una identità territoriale, c'è una riforma, ci sono sempre preoccupazioni legittime e ci sono da tutte le parti. Le preoccupazioni sono delle istituzioni perché si va in un organismo molto più grande, mi viene in mente la Versilia, sette comuni, sette sindaci. Dopo andremo in una conferenza dei sindaci dove ci saranno oltre cento comuni per quello che riguarda la nostra area. Si perde forse un allontanamento dei centri decisionali e quindi la preoccupazione di non essere più incisivi sulle scelte che verranno fatte per quel territorio, ma non credo che questo possa accadere. Quando c'è una rivoluzione di questa natura bisogna accettare anche la sfida, purché al centro della sfida ci sia la risposta ai bisogni di salute dei cittadini, il miglioramento qualitativo indubbiamente delle prestazioni. Io dico, all'interno di ogni area vasta abbiamo un'azienda ospedaliera universitaria, per quello che ci riguarda abbiamo Cisanello, con grandissime eccellenze e con grandi risposte. Mi domando, noi qua siamo a Lucca, come riusciamo ad integrare l'azienda ospedaliera universitaria con i nostri ospedali di prossimità a quelli più periferici, prima si parlava di Barga, di Castelnomo, ma vorrei dire Fivizzano, vorrei dire Pontremoli, vorrei dire Volterra, L'Elba, come anche Cecina o Piombino rispetto agli ospedali provinciali, ci vuole una vera integrazione anche con l'università. Qual è il rapporto con l'università? Personalmente ritengo che l'università dovrebbe fare più formazione, più didattica, più ricerca e più innovazione, meno produzione. Allì fuori quelle eccellenze, quelle alte specialità che indubbiamente non possono che essere fatte all'interno di un'azienda ospedaliera universitaria. Quindi ricondurre ognuno nel proprio ruolo. Esatto, diciamo dare la vocazione a ogni presidio ospedaliero, quindi se noi usciamo dalla sfera diciamo delle appartenenze più di campanile e veramente ragioniamo in termini di area vasta, noi riusciremo a dare servizi qualitativamente più alti, facendo delle economie di scala e indubbiamente garantire e rafforzare l'aspetto del territorio. È chiaro che è una scelta delicata, che andrà valutata attentamente, però io credo che sia una scelta anche obbligata e la dobbiamo fare con grande coraggio, con grande spirito, diciamo così, di collaborazione. Io sono convinto che su questo riusciremo a vincerla. Come è stato lavorare in Commissione Sanità per questi cinque anni? Beh, guarda, io sono completo un percorso di dieci anni dove credo di essere cresciuto tantissimo sotto l'aspetto politico, ma principalmente sotto l'aspetto umano. Nel lavoro quotidiano ho trovato tantissime difficoltà, ma le difficoltà di solito sono quelle che ti aiutano indubbiamente a tenere la testa al pezzo, a non abbassare mai la guardia e andare avanti. Per me è stato questi ultimi cinque anni una commissione molto, molto impegnativa. Vorrei solo ricordare il piano sociosanitario integrato, vorrei ricordare l'ultima legge di riforma, vorrei ricordare tutte le leggi che hanno riguardato l'aspetto del volontariato e non solo, tutta una serie di altri passaggi che hanno riguardato anche l'aspetto dell'organizzazione territoriale. Le società della salute che per esempio non ci sono sul nostro territorio e che effettivamente riguardano la vera integrazione sociosanitaria sulla quale anche qui i sindaci dovrebbero scegliere, voglio dire. È stato un percorso molto, molto accattivante, con un confronto vero, perché caratterialmente io sono fatto così, non abbiamo fatto sconti a nessuno, né ai vari assessori che si sono susseguiti, né al Presidente della Giunta, ma in un rapporto sempre leale, sempre franco, dove al centro di questo rapporto c'era l'interesse e il bene collettivo, non gli interessi personali. Abbiamo lavorato fianco a fianco, talvolta anche con confronti aspri, ma per cercare di produrre leggi di buona qualità, che dessero risposte vere ai cittadini. Io credo che questa sfida è in un momento difficile, perché è stato oggettivamente, sono stati cinque anni tremendi, perlomeno sotto l'aspetto dell'economia mondiale in generale, che ha avuto ricadute anche nella nostra regione, con tagli lineari di trasferimenti, però abbiamo sempre affrontato con grande piglio questa scommessa, questa voglia di cambiamento, questa voglia di affrontare le cose. Io credo che abbiamo dato un contributo positivo. Allora, c'è l'ultima interruzione pubblicitaria, poi leggiamo le notizie dei quotidiani nazionali, chiederemo a Remaschi che cosa farà in futuro dopo questo lungo percorso che ha completato, perché il partito potrebbe anche chiederle, a quello che dicono diverse voci, di continuare il suo impegno in qualche modo all'interno dell'amministrazione pubblica. Le chiederemo anche di Coreglia che va al voto insieme alle regionali e parleremo poi anche, diremo due parole anche sulla questione delle elezioni regionali che si terranno alla fine del mese di maggio. A tra poco con l'ultima parte di Buongiorno con noi. Prima di riprendere il colloquio con Marco Remaschi, qualche titolo sui quotidiani nazionali usciti questa mattina nel Corriere della Sera. Ecco la rete tra COP e Partito Democratico. Secondo il rapporto annuale della Guardia di Finanza è regolare un appalto su tre. Un altro manager collabora, una busta con 16 mila euro e la scritta Baffo che sembrerebbe riferirsi forse a Massimo D'Alema ma assolutamente queste sono cose che ovviamente sono in questo momento oggetto dell'indagine. Una notizia invece riguardante gli esteri. In Francia Marine Le Pen vuole vincere e caccia il padre, la leader del fronte nazionale contro il fondatore. E qui si parla delle vicissitudini della destra in Francia che comunque sembra in tumultuosa ascesa. Sulla Repubblica il titolo d'apertura è dedicato a De Gennaro. Diaz, il PD all'attacco, via De Gennaro da fin meccanica. Polemica dopo la sentenza della Corte di Strasburgo sui fatti avvenuti durante il G8 di Genova. Anche Selle e Movimento 5 Stelle contro l'ex capo della Polizia. È un importante fronte interno che si apre all'interno del governo e della pubblica amministrazione. Si parla anche dell'Expo nel cantiere dei ritardi. 21 giorni per evitare il flop. Ormai una corsa contro il tempo per arrivare pronti all'appuntamento con l'Expo di Milano. Il titolo della nazione, del quotidiano nazionale, un appalto su tre è truccato. Rapporto shock della finanza. Nel 2014 scoperti sprechi e frodi per 4 miliardi. Si parla poi dell'inchiesta sui rapporti tra Coppa e PD. Collabora un altro uomo CPL e spunta una busta di soldi con la scritta Baffo. Nella foto centrale case aperte. La proposta in Parlamento regole bipartisan sulla prostituzione. Anche questo è un argomento in questo momento all'ordine del giorno. Chiudiamo con le notizie sportive. Triplete. Juve si può. I grandi ex credono nell'impresa. Se i big saranno al meglio può vincere la Champions. Si parla delle possibili vittorie della Juventus. La Gazzetta dello Sport rilancia la notizia di un nuovo interessamento di Moratti per l'Inter. Il piano Moratti con 30 mila azionisti. Ieri l'ex presidente dell'Inter aveva comunque smentito un proprio interessamento in questo senso. Vedremo come andrà a finire. Riprendiamo il nostro dialogo con Marco Remaschi. Dicevo prima il Partito Democratico potrebbe chiederle di continuare l'impegno nella pubblica amministrazione, magari proprio sul fronte della sanità. Glielo dico chiaro, ci sono voci che dicono di un suo possibile ingresso nella futura giunta se vincerà il presidente Rossi anche se i pronostici sono tutti a suo favore. Lei che intenzioni ha dopo la fine del suo mandato? Guarda, io intanto ho l'intenzione di dedicarmi attivamente a questa campagna elettorale sia per quello che riguarda l'ambito regionale, quindi il sostegno a Enrico Rossi per la sua riconferma per il secondo mandato, sia sul fronte diciamo delle amministrazioni comunali dove si va al voto anche nel mio comune. Sosterrò chiaramente con grande vigore, con grande forza il sindaco uscente Valerio Madei. Ma non è importante l'aspetto mio personale. Sì è vero che il partito regionale ha chiesto a me, ma non solo a me, credo a molte altre persone, una eventuale disponibilità per poter far parte della squadra di governo. Non è quello che a me interessa, anche se indubbiamente non posso nasconderlo, che mi ha fatto piacere che il partito mi abbia chiesto questa cosa. Bisognerà valutare nel tempo, lo farà il partito con il presidente Rossi, se effettivamente ci sarà un mio impegno o meno. Ma lo vivo con grande serenità e con grande tranquillità perché, come ho detto prima, sono molto soddisfatto del percorso che ho avuto in Consiglio regionale in questi dieci anni e credo di averli svolti con grande dedizione al mandato che i cittadini lucchesi mi avevano dato, diciamo per rappresentarli in Consiglio regionale. Ritengo che Enrico Rossi, sapete qual è stato il mio rapporto con lui, un rapporto vero, un rapporto franco, non fatto di infingimenti, come ho detto prima, anche di confronti approfonditi, seri, anche forti talvolta, ma sempre inteso indubbiamente come elemento, sia per parte mia ma anche per parte sua, perché su questo ci siamo più volte chiariti, nell'interesse comune. Mettiamo in campo tante idee, una delle prime cose fondamentali è l'aspetto legato al lavoro, all'occupazione, al far decollare l'aspetto delle infrastrutture che riguardano non solo l'aspetto portuale, aeroportuale, stradale, la tirrenica, il raddoppio della linea ferroviaria Pistoia-Lucca, dove ci sono stati messi soldi veri da parte dello Stato centrale e della regione toscana. Sicuramente fra qualche anno avremo questa opera completata che avvicinerà, voglio dire, Lucca all'alta velocità, quindi al nodo ferroviario importante in tempi molto, molto rapidi. Abbiamo mantenuto alcuni impegni, per esempio sulla Lucca-Aulla, voglio dire, abbiamo iniziato il percorso del rinnovo del materiale lotabile, verranno fatti anche investimenti strutturali per migliorare quella tratta. La scorsa settimana aveva presentato la Lucca anche l'aspetto del collegamento gomma-rotaia e quindi di sviluppare e valorizzare anche l'aspetto merci e quindi ridurre il traffico di mezzi pesanti che attraversano Lucca e vanno da e per la valle. Ci sono una serie, diciamo, di impegni di questa natura che saranno fondamentali, diciamo, nel dirimere tutta una serie di questioni. Però la vera scommessa del Governo nazionale e anche del Governo regionale è quella di creare maggiori opportunità in Toscana di lavoro, di rimettere in moto, voglio dire, la Toscana. Anche se c'è da dirlo, sono dati oggettivi, non li diciamo noi, che la Toscana seppur in questo periodo di crisi molto marcata, molto forte, indubbiamente ha retto meglio di altre regioni rispetto sia al dato occupazionale che al dato di fatturato. Noi però abbiamo il dovere indubbiamente di incentivare questo tipo di ripresa e di rimetterci in corsa, di rimetterci in moto. Credo che per esempio l'Expo di cui si parla sia un elemento anche per la Toscana determinante. Sono convinto che questi 21 giorni saranno indubbiamente sufficienti per essere pronti all'altezza di questa grande vetrina mondiale. Lo speriamo tutti. Parlando sempre delle elezioni regionali, notizie di questa mattina sui quotidiani, qualche movimento sul fronte del centro-destra, possibile accordo tra Lega e Fratelli d'Italia. Forza Italia che cerca sempre un proprio candidato potrebbe addirittura riessere e tornare in auge il nome di Massimo Mallegni che però nel frattempo ha dato la disponibilità a candidarsi al sindaco di Pietrasanta. In tutto questo scenario si pensa che il presidente Enrico Rossi, il candidato del Partito Democratico del centro-sinistra, possa anche arrivare alla vittoria al primo turno. Secondo lei è una cosa possibile? A me pare che anche se i sondaggi vanno indubbiamente pesati, voglio dire, nella giusta maniera, a me pare che il risultato finale che ci sarà il 31 di maggio sia un risultato secondo me scontato. Ma non lo dico perché Enrico Rossi, voglio dire, ritengo come qualcuno dice, questi giorni non ha avversari perché la situazione che c'è all'interno della minoranza, le grandi divisioni che ci sono all'interno del centro-destra, ad oggi mancano 20 giorni alla presentazione delle candidature e mi sembra che sono molto indietro non solo sugli accordi, ma sull'individuazione dei candidati a presidente. Mi immagino come si farà negli ultimi giorni, si parla di consiglio regionale, individuare i candidati per il consiglio regionale a mettere insieme un programma credibile da presentare ai cittadini. Credo che su questo l'esperienza della Toscana, il buon governo che c'è stato, l'esperienza politica di Enrico Rossi garantiscono secondo me certezze ai cittadini toscani e anche al mondo dell'impresa. Sono convinto che su questo tipo di aspetto saremo indubbiamente all'aspettativa. Per quello che ci riguarda noi qui in provincia di Lucca stiamo definendo proprio in questi giorni le candidature. Ieri sera nel territoriale della Versilia sono stati individuati tre candidature, due maschili e una femminile, bei nomi indubbiamente, nomi che rappresentano esperienza e capacità sia politica che amministrativa. Noi venerdì sera delibereremo come territoriale di Lucca gli altri cinque nomi mancanti, tre donne, e due uomini e quindi completeremo questa offerta che presenteremo ai nostri cittadini. È in corsa il presidente della provincia di Lucca, Stefano Baccelli, che è indubbiamente per quello che ci riguarda, per la nostra provincia, un elemento di grande forza di questa lista perché oltre che essere un bravo politico è anche un profondo conoscitore del territorio provinciale e quindi saprà rappresentare con grande forza nel prossimo Consiglio regionale quelle che sono le istanze e i bisogni di questo territorio. Noi abbiamo bisogno di persone forti e autorevoli. Non ci scordiamo e chiudo che la Toscana, oltre ad essere virtuosa, ha fatto una riforma della legge elettorale, ha ridotto in due legislature il numero dei consiglieri da 65 a 40, ha fatto dei percorsi di trasparenza, la giunta da 15 a 8, ha fatto delle cose, indubbiamente ha reintrodotto le preferenze, quindi la possibilità di scegliere da parte dei cittadini toscani e credo che vada pure ricordato è una delle poche regioni nel contesto nazionale che indubbiamente è rimasta fuori da tutti i percorsi che sono venuti fuori su spese pazze, su spese di rappresentanza e su tante situazioni. Io credo di essere anche orgoglioso di questo, di uscire da un percorso nel quale indubbiamente questa maggioranza ha realizzato tante cose, ha creato prospettive e indubbiamente da uno scenario di prospettiva sicuramente interessante sul quale dovremo tutti lavorare nel proseguo della prossima legislatura. Abbiamo a disposizione soltanto gli ultimi 30 secondi, lei comunque ce l'ha già detto il candidato del Partito Democratico a Coreglia, il comune dove lei è stato sindaco se non sbaglio per 10 anni, per 9 anni sarà di nuovo Valerio Amadei, cioè il sindaco uscente. Sì, Amadei ha sciolto le sue riserve in questi giorni, ieri sera abbiamo riunito il partito, c'è stata una bella discussione, un applauso finale per la sua ricandidatura, abbiamo dato a lui, al segretario comunale il compito di allestire la lista, di rinnovarla. Io chiaramente non mi presenterò più a Coreglia, l'ho detto in largo anticipo, sono 32 anni che faccio parte voglio dire a vario titolo, ho fatto esperienze di vita importantissime nel mio comune, ritengo che ci sia effettivamente bisogno di un cambiamento anche generazionale, oltre che di idee, largo indubbiamente a questo rinnovamento, sono convinto che Amadei saprà fornire, voglio dire in termini di risposte programmatiche, ma anche di scelte sulle persone, le migliori opportunità che potremo mettere in campo affinché Coreglia sia un comune all'avanguardia all'interno della Valle del Serchio e della nostra provincia. La scommessa è ambiziosa, ma sono convinto che riusciremo a vincerla. Grazie a Marco Le Maschi che è stato nostro ospite questa mattina, grazie per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!